Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nell'anteprima di Samsung Galaxy S10 Quando dico S10 intendo la famiglia Galaxy S10, ovvero S10, S10+, S10e Si tratta di tre prodotti che arriveranno a brevissimo sul nostro mercato, non indugiamo oltre e andiamo a scoprirli La prima cosa su cui sicuramente dovremmo soffermarci è il design Il design che non cambia moltissimo e se cambia lo fa grazie al nuovo schermo Il nuovo schermo con l'Infinity O dove O sta per la forma circolare del foro che c'è all'interno di questi display Un foro più piccolo su S10e ed S10, un po' più grande su S10+, perché contiene ben due fotocamere sulla parte frontale Questo display ha un nuovo Dynamic AMOLED che permette al display di adattarsi a varie circostanze Ma soprattutto di avere una luminosità massima di ben 1200 nits e di un contrasto fino a 2 milioni a 1 Che è veramente un valore notevolissimo Un display oggettivamente molto molto bello, ancora più fedele, con una miglior riduzione della luce blu Ha anche una certificazione al riguardo e che quindi va a migliorare quanto già di molto molto buono si era visto prima Questo Infinity O, questo piccolo forellino per la fotocamera, ci permette poi di avere anche un display ancora più grande Da 6.1 pollici per S10, da 6.4 per S10+, e da 5.8 invece un pochino più piccolo per S10e Si tratta di display Quad HD per i due top di gamma, invece di un Full HD, ovviamente tutti i Plus, visto che sono in 19 noni, per S10e Ma c'è anche una novità perché su S10 e S10 Plus all'interno del display c'è un nuovo lettore di impronte digitali ultrasonico Che quindi riesce a fare una scansione 3D della vostra impronta digitale rendendo il tutto anche molto più sicuro E parliamo poi delle fotocamere, un'altra delle novità di questo Galaxy S10 Abbiamo ben 3 fotocamere, una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura variabile f1.5 e f2.4 Una fotocamera zoom da 12 megapixel con apertura f2.4 E una nuova fotocamera grandangolare da 16 megapixel con fuoco fisso, ovviamente, in questo caso anche non stabilizzata Le altre due sono sempre stabilizzate, f2.2 Questa è la grande novità Sull'S10e trovate anche questa fotocamera grandangolare e non trovate lo zoom 2x Nuova fotocamera frontale da 10 megapixel e una seconda fotocamera frontale per lo scontornamento da 8 megapixel solo su S10 Plus Quando si parla di foto si parla anche in realtà di video Adesso abbiamo una nuova stabilizzazione Steady che è un mix ovviamente di ottico ed elettronico Presente tra l'altro una stabilizzazione anche sui nuovi video in 4K dalla fotocamera frontale E le fotocamere principali possono anche fare video adesso in 4K anche in HDR10 Plus Tra l'altro tecnologia supportata anche dal Dynamic Amoled, ovvero dal display di questa famiglia Galaxy S10 E poi qualche altra chicca, la ricarica wireless sempre presente ma adesso anche inversa Ovvero che permette di dare energia, di dare carica anche ai dispositivi dei vostri amici E anche alle nuove Galaxy Buds, alle nuove cuffie che potrete come vi dirò alla fine anche ricevere gratuitamente all'acquisto di un Galaxy S10 Abbiamo poi le routine di Bixby, quindi una nuova funzionalità per sfruttare Bixby Abbiamo poi una nuova MPU che permette di utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare la memoria interna, la RAM Ma anche le prestazioni e anche la temperatura del dispositivo Che questa secondo me è una questione molto molto interessante che Samsung va a toccare Sono molto curioso di vedere come si comporterà sul lungo periodo questa tecnologia Connettività poi ai massimi livelli perché abbiamo l'LTE fino a 2 gigabit Una velocità veramente sorprendente Il nuovo wifi di sesta generazione che garantisce velocità fino a 1.5 gigabit per secondo E maggiori velocità soprattutto, ovviamente serviranno reti compatibili Soprattutto in zone molto affollate come conferenze, aeroporti Per chi come me con lo smartphone ci lavora Una novità che è veramente molto 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 importante E che può veramente anche cambiare e può dare anche un plus in più rispetto alla concorrenza Quando si tratta appunto di dispositivi per quanto riguarda la produttività Siamo quasi arrivati alle conclusioni Ma prima di farvi vedere i dispositivi Vi do qualche altro dettaglio in come si differenzia questa famiglia Galaxy S10 ha 8 gigabyte di RAM 128 e 256 giga di memoria interna Ovviamente espandibile Galaxy S10 Plus è disponibile da 8 o 12 giga di RAM Nei tagli di memoria da 128, 512 e 1 tera di memoria interna espandibile E infine Galaxy S10e da 6 e 8 giga di RAM Magari più avanti riuscirò a darvi anche qualche dettaglio su quali saranno le varianti che arrivano nel nostro paese Forse anche tutte Con tagli di memoria da 128 e 256 giga di memoria espandibile Batterie da 3400 per Galaxy S10, 4100 per Galaxy S10 Plus e 3100 per Galaxy S10e E adesso dopo avervi dato tutta questa infarinatura magari li guardiamo anche un po' Ve l'avevo detto e quindi eccoci qua a guardare la nuova famiglia Galaxy S10 Ovviamente in ordine abbiamo un Galaxy S10e, un Galaxy S10 e due Galaxy S10 Plus Sono due e fra un attimo vi dirò anche in cosa si differenziano Li vedete qui davanti con un display in questo Infinity O Ovviamente con un trucco, con uno sfondo che è più scuro qui nell'angolo in alto a destra E allora possiamo anche andare a cercare fra gli sfondi Uno sfondo che magari ci permetta di esaltare quell'angolo invece che nasconderlo Come vedete la maggior parte degli sfondi in realtà hanno proprio questa sfumatura nera nell'angolo in alto Che in qualche modo un pochino appunto nasconde questa fotocamera Direi che praticamente tutti gli sfondi in dotazione sono fatti così E allora per vedere, per capire com'è fatta questa fotocamera basta sostanzialmente aprire una qualsiasi app E allora un'app bianca come questa ci mostra in modo estremamente chiaro cosa succede attorno alla fotocamera Fotocamera possiamo anche andare a eseguire un contenuto multimediale Così notiamo come in questo caso è un contenuto in 16 noni Ma se lo mandiamo in 19 noni ecco qua che vedete come istantaneamente l'occhiolino della fotocamera si noti un po' di più Ma detto proprio sinceramente non è in un punto centrale per la vista Quindi onestamente non lo si nota neanche tantissimo Poi probabilmente se vi dà più noia forse potete anche girarlo così sotto sopra Audio potente, audio potente che è sempre un audio stereo visto che comunque anche se i bordi si sono ridotti Vado di nuovo ad aprire la galleria perché era estremamente chiara nel mostrare dove finisce il display Quassù attorno al bordo superiore è presente comunque la capsula auricolare Se facciamo lo stesso test anche sul S10 Plus eccolo qua notate meglio appunto la doppia configurazione della doppia camera frontale In questo modo riuscite a vedere meglio appunto questa interruzione se vogliamo qui dello schermo Vi faccio vedere, vabbè prendo questo S10 che stavo già guardando nel dettaglio Qui abbiamo la porta USB-C, il microfono, lo speaker, il jack audio che non sparisce Attenzione, io dopo ormai più di un anno, un paio d'anni che il jack audio è sparito Sono ancora un grandissimo fan del jack audio Secondo me dovrebbe esserci, magari ci farò un bel articolo a riguardo per farvi capire la mia posizione Tasto di accensione, slot della doppia sim, microfono, tasto Bixby e bilanciere del volume E se premiamo il tasto Bixby ovviamente abbiamo l'ultimissima versione di Bixby con anche le Bixby routine Kim, non sono Kim, va bene, vediamo se c'è già l'italiano, sì eccolo qua Tanto ora voi non sentirete perché la clip è attaccata alla mia camicia L'audio sembra veramente molto potente, sembra più potente di un Note 9 Però ovviamente adesso non andrò fino in fondo Vi faccio vedere il retro, in questo caso lo vedete, è verdolino, direi color menta Con questo modulo, tripla fotocamera, sensore di battito cardiaco non manca Il LED flash che è sempre singolo In un modulo, vi faccio vedere, che è leggermente sporgente Non è tanto sporgente ma secondo me qui l'anello argentato un pochino inganna Un po' lo fa sembrare più sporgente di quello che è Il profilo, lo vedete, è lucido E questo invece è S10E Con il display piatto, quindi non è curvo ai lati come l'altro Le altre differenze ve le ho già elencate Abbiamo tutto esattamente come l'altro modello Vi faccio vedere però come il modulo della fotocamera sia doppio Anche questo è in colorazione verde, manca il sensore di battito cardiaco Ma è decisamente un altro verde, lo vedete Mi ricorda tantissimo quello dell'S6 Edge Mi fa tornare in mente veramente un emerald green fantastico C'è sempre tutto quello che vi aspettate Ecco, volenti o nolenti questo è un po' l'iPhone XR di Android Ovvero quello che costa meno Offre quasi tutto quello che offrono i suoi fratelli maggiori Però può intrigare molte più persone Anche perché conosco persone a cui il bordo curvo non piace Il lettore di impronte digitale qui in questo caso è posizionato sul lato destro Vi faccio vedere anche Anzi vi faccio vedere questo perché quell'altro è una mezza sorpresa Vi faccio vedere questa colorazione nera Eccolo qua, molto bella Anche questo con il bordo lucido Anche se scuro a me personalmente così mi piace anche di più Insomma un prodotto estremamente elegante Ma che non differisce se non per le dimensioni rispetto a S10 Ma vi faccio vedere questo perché questo è la versione in ceramica Pesa di più ma devo dire che il suo indubbio vantaggio è che sembra trattenere meno le impronte Questo è un grande vantaggio perché gli smartphone Samsung un po' soffrono di questo problema Ovvero il fatto che trattengono molto le impronte Forse sarà anche la colorazione bianca ma sembra esattamente migliore da questo punto di vista È più pesante oggettivamente non ho dietro il dato ma l'ho trovata nell'articolo E vi faccio vedere una cosa Vi faccio vedere il lettore di impronte digitali ultrasonico Il lettore di impronte digitali ultrasonico è posizionato qui e che funziona sempre Non dovete per forza risvegliare lo smartphone Quindi io poggio il dito qui e lo smartphone si sblocca L'ho configurato veramente dieci minuti fa appena prima di iniziare il video In questo caso ho mancato la posizione Bisogna un po' imparare ma come avete visto anche senza particolare allenamento Si riesce ad andare così in modo molto naturale a trovare il lettore di impronte Che è molto rapido Più rapido degli altri lettori di impronte digitali sotto il display Non probabilmente rapidissimo come un lettore di impronte digitali classico Se il telefono invece è così in attesa come vedete in realtà i tempi di sblocco non migliorano Nel senso che non si ha un sensibile miglioramento se il display è risvegliato Visto che il sensore ultrasonico è sempre attivo e non dipende appunto dal display se è acceso o meno Andiamo a vedere per curiosità le impostazioni del telefono Per vedere le versioni del software Android 9 One UI 1.1 Con le patch di gennaio Andiamo ad avviare la fotocamera Eccola qua Che quindi ha tre impostazioni Le avevamo già viste in questa configurazione anche sui Galaxy A Quindi la modalità zoom 2x La modalità grandangolare 123 gradi se non vado errato Che è la stessa dice Samsung dell'occhio umano Ovviamente c'è anche l'anteprima full Che è ampiamente ampiamente spettacolare Il live focus per la sfocatura con anche degli effetti Degli effetti attorno al soggetto in primo piano La modalità food, foto, video, super slow motion, slow motion E poi nelle foto abbiamo anche una nuova intelligenza artificiale Che riconosce 10 scene in più Su Synoptimizer Eccolo qua se volete lo potete disabilitare Ma tutto sommato perché disabilitarlo L'interfaccia è molto simile a quella di A quella che conosciamo del Note 9 O comunque degli altri dispositivi Che si sono aggiornati di recente Non so dirvi ancora molto sulla fotocamera Sulla qualità sempre velocissima Ovviamente la testeremo a dovere E anche la doppia nuova fotocamera frontale Voglio fare una cosa Voglio cogliere quindi un'occasione Per tirare dentro fra i contendenti Anche due avversari Ovvero un iPhone XS E un Samsung Galaxy S9 In questo modo riusciamo un po' A magari spingo fuori degli avversari A farvi vedere anche un po' magari le dimensioni Come vedete l'S10e è più compatto Anche dell'iPhone XS E anche o XS E che del Samsung Galaxy S9 Ve li faccio vedere fianco a fianco Come vedete è veramente molto molto compatto Il confronto invece fra un S9 e un S10 Dimostra come le dimensioni siano cresciute di poco A favore di un display Guardate quanto più grande Veramente veramente notevole Facciamo una cosa Facciamo apriamo il Play Store per entrambi Così creiamo un po' di bordi in più Per mostrarvi la differenza La differenza oggettivamente è veramente veramente notevole Prima di chiudere vi faccio vedere anche questa cosa molto interessante Da attendere le notifiche Wireless Power Share Quindi è tutto pronto E adesso prendo queste che sono le nuove Samsung Buds Eccole qua, molto piccole, molte compatte Con il LED che indica che sono andate in carica Ma se appoggio qui Il piccolo LED che vedete sulla parte posteriore Da verde è diventato rosso Che indica la carica Posso fare la stessa cosa anche con Samsung Galaxy S10 E come vedete ovviamente è andato in carica anche questo Posso farvi vedere queste Galaxy Buds anche in altre colorazioni Ve le faccio vedere gialle Ma ve le posso anche far vedere nere Che a favore di luce onestamente si vedono anche meglio 149 euro Ma poi vi parlerò anche a fine video di una promozione molto interessante Non è la prima volta che vediamo la ricarica wireless inversa Ma è la prima volta almeno nel nostro continente Che un'azienda la sfrutta bene Per offrire un'integrazione all'interno del suo ecosistema In questo caso con la ricarica delle nuove cuffie wireless Samsung Ebbene questa era solo un'anteprima dei nuovi Galaxy S10 Della famiglia Galaxy S10 Chiudo ovviamente con prezzi e disponibilità Disponibili dall'8 marzo 2019 Ovvero fra pochissimi giorni Preordinabili da subito S10 ed S10 Plus Prezzi 779 euro per Galaxy S10 e 929 euro per Galaxy S10 e 1029 euro per Galaxy S10 Plus Ovviamente i prezzi vanno a salire in base ai tagli di memoria e ai tagli di RAM Se li preordinate subito potete avere nuove Galaxy Buds dal costo di 149 euro incluse nel prezzo Sono disponibili nei colori bianco, nero, verde Anche giallo Galaxy S10 e E anche in ceramica bianca o ceramica nera Con il retro ovviamente per quanto riguarda Galaxy S10 Plus Per questo anteprima è tutto Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it